Basta leggere, questi familiari non sono, i migrati non sono, non si. ...e di decodicazione, questi passi continuano ad uscire dai mari in un'unità di decodizione avanzato, non sono più riconoscibili, non è anche distante. Siamo in Cutro, a manifestazione per queste vittime, di fare queste tutte per tutte le vittime del mare. Speriamo che si bastano e si fermano. Siamo qui per ricordare un'esima strage. Purtroppo si continua a morire i mari. Bisogna fermare queste strage, queste omicini. ...e si affronta il sistema, la questione migratoria attraverso la creazione di canali sicuri e legali, perché non è in asprendoli bene per gli scafissi che si potrà... ...e di solito. Questi passi possono uscire dai mari in un'unità di decodizione avanzato, non sono più riconoscibili. Passi una indescrizione... ...e di un'unità di un'unità di un'unità di percorso sana. ...e di un'unità di percorso arappone da mangiare la creazione di canali, ma è in asprendolo. Grazie.